Ciao portieri, ecco i nuovi Royce Prisma Supreme C3 Fusion, un guanto davvero eccezionale che andiamo subito a scoprire. Prisma è una combinazione unica dei migliori materiali, di una vestibilità più aderente e dei migliori palmi in termini di presa ed è stato pensato e sviluppato per prestazioni professionali. Il design innovativo apre un nuovo capitolo dello sviluppo di guanti Royce. Il palmo è totalmente nuovo, fa il suo esordio il C3 Fusion che rappresenta una novità assoluta. La raffinazione completa della mescola di lacce G2 e l'aggiunta di speciali additivi adesivi hanno permesso la realizzazione di un palmo estremamente morbido e viscoso. A differenza di palmi esteticamente simili sul mercato che hanno delle particelle sul palmo solo disegnate, la Royce grazie alla tecnologia Fusion ha iniettato diversi tipi di lattice nello strato base. Le macchioline blu sono particelle di lattice acqua con tecnologia Hydroplane che offre la miglior presa in condizioni bagnate, mentre le macchioline nere sono particelle di lattice solid, super resistente che incrementa la solidità della schiuma. Il risultato è questo palmo innovativo che ci permette di avere una presa eccellente abbinata a una durata del palmo molto più lunga dei precedenti modelli. In basso abbiamo la zona antiabrasione con tecnologia Duraloop che grazie a questo laccio realzato e sagomato che si estende fino al polso impedisce una rapida usura del palmo. Il taglio è il classico dual roll expense cut che massimizza la superficie di presa a contatto con il pallone. Le cuciture sono esterne e il lattice del palmo si estende fino al pollice. Tra le dita ci sono dei rinforzi in rete altamente traspiranti. Il dorso è ricco di tecnologia. Iniziamo dal famoso sistema Shock Shield Advance per una maggiore protezione e precisione nelle respinte di pugno. Per garantire una corretta circolazione dell'aria a questo guanto si avvalida il sistema Airband System con inserti in materiale mesh. Nella parte centrale troviamo il sistema ProFlex iriato per garantire una perfetta flessibilità e libertà di movimento. Altra novità sono questi inserti in silicone posizionati sulla parte superiore delle dita. La chiusura è formata da un ampio bandage elastico con chiusura a velcro. Metà del cinturino è in elastico per una regolazione millimetrica. Come già detto in precedenza il palmo è stato esteso fin sopra il bandage per sfruttare ogni centimetro utile di superficie per bloccare il pallone. Il guanto è stato aderente e lo reputo uno dei migliori in circolazione se non il migliore. Questa volta la Roish si è davvero superata perché è riuscita a combinare le proprietà di tre lattici in un unico palmo perfetto in ogni condizione e terreno di gioco. Ma soprattutto è riuscita a risolvere un problema che affligge i portieri da sempre e cioè la durata del palmo. Se questo video vi è stato utile lasciate un mi piace. Vi do appuntamento al prossimo video portieri. Ciao!